Ciao a tutti amici youtube, sono Fabio ed oggi andiamo a recensire un semplice prodotto Oki, è un adattatore VGA HDMI, molto utile se vogliamo ripristinare vecchi monitor e fare una specie di multitasking con Windows per esempio. Se voglio mostrare una finestra di esplora file posso mostrarla in un monitor principale e un monitor secondario, in questo modo possiamo ottimizzare un po' i tempi di lavoro, so anche che viene utilizzato in determinate sessioni di gioco, beh tutto questo poi lo andremo a vedere successivamente, però ora vi mostro un po' il prodotto com'è, un po' l'unboxing e poi vi darò dei consigli per l'acquisto. Oki confeziona tutti i suoi prodotti in carine scatole di cartone, mostra ecologica che dovrebbe adottare tutte le aziende. L'adattatore è protetto in una bustina in plastica biodegradabile, poi troviamo giustamente la garanzia di 24 mesi, per applicarla basta semplicemente registrare il prodotto nel proprio account ed un'altra utilità di questo foglietto è lo sticker, che non tutti ne sono a conoscenza. Infine il manuale d'uso con disponibili diverse lingue, fra cui il nostro italiano. L'installazione è immediata, basta munirsi di un cavo UGA, di solito hanno la testina blu che permette, grazie alle viti, di agganciarsi saldamente all'attacco e poi collegare il tutto. Accendete il vostro monitor, secondario, ed il gioco è fatto! La modalità che ho prescelto nel condividere il sistema operativo con un secondo monitor è la modalità espansione che permette di aggiungere una copia della schermata principale in modo da organizzare meglio le finestre. Questi sono solo alcuni esempi che vi mostro con l'explorer file, veramente consigliato per chi gestisce più cose contemporaneamente, utilizzato anche per giochi da quanto ho visto. Bene, per questo video è tutto, se interessa potete cliccare sul link presente in basso alla descrizione per acquistare il prodotto su Amazon. Da Ouki la qualità è assicurata, anche nelle cose che possono sembrare scontate. Per altre recensioni vi invito a visualizzare altri miei video sul canale. Grazie a tutti!